e veloce anche questo la scriviamo Fiorentina la scriviamo F1 da Faina l'ho copiata da Faina c'è bisogno di dirlo davanti a migliaia a milioni di telespettatori ti fai bello con le cose di Faina vai andiamo avanti il Catania prima della Roma il Catania che fa? il Catania ha preso Paglialunga oggi dall'Ercules ha preso Ciani l'attaccante di riserva per Berghezio e tratta Blandi del Boca Juniors prestiti con diritto di riscatto ma potrebbe essere un'operazione per giugno o se dovesse partire Ducalà io ho paura che se adesso ci fermiamo sulla Roma l'argomento è un po' ad approfondire la saltiamo e la lasciamo per ultimo? non so, dicete voi l'argomento Zema lo teniamo per ultimo per ultimo perché vale un approfondimento di Roma ne parliamo dopo ma io non lo sapevo a me invece mi suggeriscono che fai tanto il furbo Paglialunga l'ha venduto il Catania ah va all'Ercules bravo ma c'è pure scritto all'Ercules perché io credevo che fosse stato riscattato perché Paglialunga ha giocato anche ieri ho letto male io che problema c'è io ammetto i miei errori è Sabatini che non li ammetto ma almeno fa un errore su Battistusa e su Paglialunga con tutto il rispetto giusto? è più facile sbagliarsi su Paglialunga andiamo avanti su Viviano tu l'hai detto c'è anche grazie a tutti grazie a tutti